Sono stati scoperti ben 85 pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Questi 85 pianeti si troverebbero nella zona chiamata abitabile e potrebbero addirittura udite udite ospitare la vita. Si tratterebbe di esopianeti piuttosto grandi nelle dimensioni simili a Saturno, a Nettuno e a Giove. Potrebbero avere le temperature adeguate atte ad ospitare la vita. La scoperta è stata compiuta di recente da parte di diversi scienziati inglesi, come gli australiani inglesi, che hanno visto tutto questo. Sono belli grossi, giganti gassosi, potrebbero ospitare la vita grazie alle temperature che hanno e pensate che sono più distanti dalla stella madre e però potenzialmente anche un po' più freddi. Nonostante questo, però, possono addirittura ospitare la vita. Forse qualcuno si sta chiedendo di mangiare ospite, no? Non si sa. Intanto, però, la ricerca va avanti e vediamo quello che accadrà in futuro. La narrativa italiana è tutto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a voi. Ciao a tutti.